I padovani e il blocco del traffico. Se da un lato c'è la consapevolezza di prendere contromisure per fronteggiare lo smog, dall'altra c'è il malumore per un provvedimento che spesso viene interpretato e vissuto in maniera molto critica da chi lo vede solo come una soluzione tampone che crea disagio a coloro che sono di fatto costretti ad usare l'auto per i propri spostamenti, senza contare coloro come commercianti e piccoli artigiani per i quali una macchina o un furgone rappresenta un mezzo di lavoro imprescindibile. Queste misure? Assolutamente no. Perché? Perché non servono a nulla, non producono alcun beneficio se non dividere la popolazione in grandi fortunati che possono attraversare il centro quando vogliono e grandi sfortunati che invece si beccano gli effetti ma non possono accedere alla città. Bisogna che anche il comune sviluppi molto di più, non solo i mezzi pubblici ma anche le piste ciclabili che invogli, che incentivi i cittadini. Il blocco del traffico lo fai per un giorno, dopodiché succede il finimondo e il giorno dopo c'è ancora più traffico del giorno prima. Serve fare opere, opere, viadotti, sottopassi, quello serve nelle città perché allora il traffico scorre sotto e in superficie si respira. Inquilina di più sono sicuramente le caldaie, credo, soprattutto quelle al gasolio, le macchine, vabbè, è una misura che serve soprattutto a, diciamo, all'opinione, ecco, più che tutto.